Tre morti in meno di otto ore, la camorra torna a sparare a Napoli. Il primo a perdere la vita, anche se le cause non sono state ancora chiarite, è stato Giuseppe Sannino, raggiunto da colpi di arma da fuoco e morto poco dopo il ricovero a Villa Betania, ospedale del quartiere Ponticelli, alla periferia est di Napoli. 21 anni, residente a Cercola, Sannino era già noto alle forze dell'ordine. Il suo corpo è stato abbandonato davanti all'ospedale. Poco dopo, nella stessa struttura, è stato soccorso Mario Noto, 23 anni, anche lui già noto alle forze dell'ordine e residente a Cercola, nella stessa strada della vittima. È morto come un boss invece il 18enne Marco Riccio, pusher a Secondigliano, sul libro paga del clan Vanella Grasso. Secondo gli inquirenti si è trattato di una punizione del clan per il passaggio della vittima al clan avverso. Ci sarebbe questo dietro l'omicidio del ragazzo che avrebbe compiuto 19 anni tra pochi giorni. Riccio, che aveva precedenti per droga, prima era considerato vicino al clan Amato Pagano, i cosiddetti scissionisti. Poi sarebbe passato con il clan Magnetti del gruppo Vanella Grasso di Secondigliano, che sembra essere tra i più forti nel quartiere, per lo spaccio di droga. L'ultimo omicidio in ordine di tempo è avvenuto questa mattina ad orario apertura negozi a Casoria. Durante un conflitto a fuoco tra sicari di clan rivali, su cui stanno ancora indagando i carabinieri, un proiettile vagante accentrato uccidendolo Andrea Nollino, titolare di un bar 41enne. Secondo quanto stanno accertando i carabinieri, lo scooter a bordo del quale c'erano i due sicari stava inseguendo un'automobile con a bordo verosimilmente il vero obiettivo. Davanti al bar hanno sparato i tre colpi di arma da fuoco, uno dei quali ha colpito Nollino, che aveva appena aperto il bar e stava spazzando l'esterno.